Musica Musica Sono contento pure no dopo tutta questa voglia di risariare di mille che ci sarà Dopo il sogno della mamma che mi è dotta di trovare dopo che il progetto è arrivato su di me io mi sento di provare a migliorare e crederci ci sarà una scheda migliore ma con più valore ci sarà con il nostro in dove con impegno e rigore ci sarà dalla tua ombra al mio fianco vicino al mio banco ci sarà una storia di scuola che dica che voglio di più di più di più di più di più la mia